Riavvolgiamo il nastro e cominciamo dalla partita di mercoledì sera ad Asselt, un 29-25 convincente in cui l'Italia, nonostante dei momenti, delle difficoltà che si sono create nel corso della partita l'espulsione di Marrochi, il recupero del Belgio nel secondo tempo, anche solo il fatto di giocare in trasferta ha dimostrato di avere una grande presenza innanzitutto mentale all'interno della partita Sì, penso sia stato un po' l'emblema del gioco di squadra, dell'essere squadra non è mai facile giocare fuori casa e noi siamo riusciti a reagire bene a un avvenimento importante come l'espulsione di Pablo, siamo riusciti ad essere abbastanza costanti, a parte un po' nel secondo tempo durante tutta la partita e questo ci ha premiato e dobbiamo cercare di ripetere questa prestazione domenica Davide Bulsamini, leader della difesa, ci verrà mancato nelle partite contro la Turchia e l'abbiamo ritrovato con grande piacere e la difesa è stato l'elemento più positivo di questa partita ci sono stati però poi anche nove gol in attacco, insomma una prestazione a 360 gradi Sì, sono contento della mia prestazione e io cerco di aiutare la squadra in ogni modo possibile se è solo giocando in difesa lo faccio giocando in difesa se posso dare una mano anche in attacco come mercoledì ancora meglio però ci tengo veramente a sottolineare proprio la prestazione di squadra di tutti perché solo così si riescono a vincere queste partite Alla fine della partita commentando la vittoria Riccardo Trillini analizzando proprio partendo dall'assenza di Marrochi che è il giocatore più lucido la mente di questa squadra è il leader nella fase d'attacco ha detto la cosa che mi è piaciuta di più è stato proprio il fatto che con tantissimi poi giovani impiegati in mezzo al campo la squadra abbia comunque dimostrato maturità Sì, io penso che Pablo sia fondamentale per noi perché riesce a gestire le situazioni, i ritmi sa quando si deve accelerare, quando bisogna fermarsi però penso che il motivo per cui anche giovani riescono a essere così lucidi in campo è che ognuno ha piena fiducia nell'altro e ognuno percepisce questo quindi si sente sicuro e essendo sicuro riesce a rendere di più Una stessa serie può avere due stagioni due stagioni sono connesse ma sono anche due cose a sé due partite a sé, andata e ritorno il più quattro ce lo dobbiamo dimenticare lo tireremo fuori solo in caso di grave necessità Sì, io come dicevo con i ragazzi ieri noi dobbiamo giocare domenica come se fosse la prima partita Noi siamo forti quando siamo noi stessi e giochiamo al massimo sempre senza gestire quindi secondo me appunto come dici tu la chiave è giocare pensando solamente alla partita di domenica senza pensare che c'è stata una partita prima e secondo me avremo buone possibilità di ripeterci Anche perché in generale nelle recenti apparizioni in casa penso a Vigevano ma penso anche alla partita a Chieti dove c'era una grande atmosfera nonostante non sia grandissima la casa della Pallamano si crea questa simbiosi, questa sinergia anche con il pubblico della Pallamano italiana che sta imparando ad amarvi e a seguirvi e quindi dovrà essere ci sono gli ingredienti perché possa essere un bel pomeriggio di Pallamano azzurra Sì, senz'altro è sempre bello poter vincere in casa perché appunto negli ultimi impegni siamo sempre stati supportati dal pubblico in maniera incredibile io ho visto la partita purtroppo da casa contro la Turchia ma l'ambiente era caldo e quindi anche il pubblico si merita di poter festeggiare una vittoria in casa